Il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, ha incontrato Carlo Presenti, il nuovo responsabile della struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009. All'incontro, venuto ieri a Palazzo Fibioni, all'Aquila, hanno partecipato anche il sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi e i primi cittadini coordinatori delle aree omogenee. L'incontro è per velocizzare il cambio al vertice della struttura di missione, ha commentato il governatore Marsilio. Speriamo di poter riprendere il lavoro senza soluzioni di continuità. Spesso quando c'è un cambio di responsabilità dentro un ufficio si passano mesi soltanto a rimettere ordine alle carte, a permettere al nuovo responsabile di assumere l'iniziativa e di comprendere qual è la dimensione del problema che si ha di fronte, siccome negli ultimi due o tre anni è già successo un paio di volte che c'è stato questo cambio nella struttura di missione. L'ultimo era stato l'ingegner Fabrizio Curcio che è tornato in protezione civile. Insomma ci siamo subito premurati di incontrarci per velocizzare quanto prima questa presa di possesso dei temi, individuando una serie di priorità e di questioni. Speriamo appunto di poter avere un rapporto proficuo e fluido con il nuovo capo e andare avanti con la struttura di missione nella ricostruzione.